Per la prima volta contro in Serie A Catania e Lecce dallo Stadio Massimino anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il saluto vi arriva da Riccardo Gentile e da Vincenzo Guerini. Ancora un buon pallone dentro, bravissimo Benussi ad evitare il gol dell'1-0 del Catania, plasmati aveva toccato. Il pallone dentro, Benussi, incredibile parata di Benussi che salva tutto, ancora Catania pericolosissimo da calcio d'angolo. Riparte in Lecce da Fabiano, questo lungo lancio, colpo di testa di Giacomazzi, tiri bocchi, esterno della rete, spaventa il Catania, tiri bocchi. Pallone lungo, alto, dalle parti di Benussi e poi, che grande occasione fallita da Stovini. Mette giù il pallone, Paolucci, limite dell'aria, attenzione, in controllo, prova a girarsi, tocco fuori per Carboni, zona tiro, le finte di Carboni, non è chiuso, poi vince un rimpallo, pallone per Paolucci, Paolucci sinistro! Scheggia il palo! Mascara, dentro per Paolucci, attenzione, al centro c'è Plasmati, Paolucci può andare, lo scatto di Paolucci, fino in fondo, salta Fabiano, Paolucci, grande giocata, bravissimo Benussi! Attenzione, Paolucci! 1-0! Il Catania in vantaggio! Ha punito Paolucci! Quarto gol in campionato! Pallone buono, Munari, occhio al tastro di Castiglio! 1-1! Castiglio appena entrato, pareggia! Attenzione, grande recupero del Lecce, tiri Bocchi, poi Bizzarri in due tempi, piccolo brivido per il pubblico di Catania! Occhio a Paolucci però! Destro! Benussi! E poi la deviazione di Schiavi che mette in pallo laterale! Che rischio! Parte il cross, non c'è più tempo per Dondarini, finisce 1-1 tra Catania e Lecce!